torrelli roberto crossfit open 2021 week 3 settimana 3 open 21.3 21.4 21.3 and 21.4 barbell 20 kg 10 kg e un chilo e mezzo e 6 10 1 e mezzo 43 kg e Sì 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 Grazie. 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 15. 5. Speriamo che il prossimo anno non ci sia più Covid. Stay safe.